L'oroscopo di Astra Ben ritrovati all'ascolto, appuntamento con l'oroscopo di Astra per giovedì 3 dicembre. A Riete, le soluzioni puoi trovarle a patto di tenere a freno la foga, perché con Mercurio e Saturno alleati non ti manca il rigore dell'analisi e la capacità di districarti tra le insidie del giorno. Venere soffia venti contrari all'amore. Toro, non c'è solo l'ottimismo a darti sicurezza, se senti di avere le carte in regola per alzare la posta in gioco, non è per caso. Le finanze sono al sicuro con Giove Alleato e anche la ricerca di una nuova fiamma può andare a buon fine. Gemelli, ti distrai con facilità e sbagli per eccesso d'ottimismo. Può capitare quando, come oggi, Mercurio, Giove e la Luna ti mettono sotto pressione. Puoi consolarti con l'amore. Su questo fronte la strada è ancora in discesa. Cancro, più luci che ombre nella tua giornata, ma le certezze non sono ancora quelle sperate. Giove e la Luna ti facilitano il compito nella vita di relazione e nella sfera pratica. In amore, invece, il cammino non è in discesa. Leone, non è un caso se procedi alla velocità della luce, con Mercurio, Sole, Saturno e Urano al tuo fianco, il rischio di prendere abbagli ai minimi termini. News negli affari di cuore. Se cerchi una nuova fiamma, la strada è in discesa. Vergine è l'intuito ad indicarti la strada giusta, grazie ai buoni uffici della Luna nel segno. Puoi cambiare il verso della giornata con un'alzata d'ingegno, oppure con un colpo di fortuna. Ciò che conta alla fine è il risultato. Vilancia, di tuo puoi metterci la forte personalità, lo spirito d'iniziativa e quel pizzico di classe che non guasta. Se il fisico regge e l'attenzione non ti tradisce, di strada puoi farne parecchia. Eros e sentimento? L'accoppiata è vincente. Scorpione, ti aspetta una giornata senza troppe complicazioni. Capricorno, il senso pratico basta e avanza per mettere in sicurezza le finanze e i programmi del tempo libero sono di tuo gradimento. L'orizzonte in amore può tornare roseo. Sagittario, l'istinto può giocarti brutti scherzi. È meglio se prima ad agire chiedi un supplemento di sforzo alla riflessione. Perché le soluzioni non sono difficili, devi solo cercarle. Complicazioni in coppia, la gelosia è in agguato. Capricorno, la ripresa dell'ottimismo è firmata dalla Luna in vergine. Se sbagli oggi, non puoi dare la colpa alla sorte, ma solo la fretta eccessiva. Venere e Marte sul sentiero di guerra consigliano cautela negli affari di cuore. Acquario, col vento in poppa è più facile procedere a velocità doppia verso gli obiettivi che ti stanno a cuore. Il divertimento è assicurato, le uscite con gli amici non ti deludono e anche col partner il clima è costruttivo. E infine concludiamo con il segno dei pesci. C'è poco da ridere, la giornata non nasce sotto i migliori auspici. Giove e la Luna minano le tue sicurezze. Il senso pratico è il stand-by e anche l'ottimismo in calo. Complicazioni in amore, la gelosia è fuori controllo. Ed è tutto anche per questo appuntamento con l'oroscopo di Astra. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.